Buon pomeriggio dal telegiornale, tanta cronaca in questa nostra edizione. Partiamo da Gussago dove c'è una brutta storia, la storia di un uomo di 50 anni che ha rapito i suoi due figlioletti affidati alla ex moglie ed è fuggito all'estero. Ha ricercato in tutta Europa il 50enne di origine marocchina che ha rapito i suoi due figli in affidamento alla ex moglie e madre dei bambini. I due bambini, 7 e 12 anni, vivono a Gussago e da sabato la donna ha denunciato la scomparsa dei figli e del loro passaporto. L'uomo l'aveva già fatto, nel 2019 i figli erano rimasti lontani dalla madre per due anni fino a quando il 50enne fu intercettato in Francia. Ero terrorizzata che potesse prenderli come era già accaduto e lo ha fatto, ha detto la donna all'agenzia ANSA. Si avvicinava la bambina, l'aspettava fuori da scuola, non so cosa stia pensando di fare, non so dove sia e nemmeno che cosa abbia detto i figli. Sono preoccupatissima. Immediato l'allarme, l'uomo è ora ricercato in tutta Europa. E un'altra brutta storia arriva invece dalla città, da Brescia. Un maestro di arti marziali che è stato arrestato per violenza sessuale. Avrebbe sfruttato il suo ruolo carismatico di maestro di arti marziali per creare un rapporto di dipendenza psicologica con alcuni allievi e allieve che frequentavano la sua palestra, spingendoli a sessioni di sesso di gruppo cui talvolta anche lui stesso avrebbe partecipato insieme alla moglie che si sarebbe dedicata all'organizzazione degli incontri. Alcune delle vittime donne hanno denunciato di aver subito violenze sessuali durante queste occasioni. Con l'accusa di violenza sessuale aggravata, esercizio abusivo della professione medica, commercio abusivo di farmaci illegali e truffa aggravata, i carabinieri della sezione operativa del NORM della Compagnia di Chiari e quelli della stazione di Cologne hanno eseguito un'ordinanza cautelare con la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 52 anni ritenuto presunto responsabile insieme alla moglie di 42 anni e un altro uomo 53enne dei reati di violenza sessuale aggravata. L'ordinanza è stata emessa dal GIP di Brescia su richiesta della Procura della Repubblica. Secondo l'indagine, attraverso un broker finanziario di sua conoscenza, anche lui indagato, il 52enne avrebbe convinto i parenti di alcuni frequentatori della palestra a investire ingenti somme di denaro dietro la promessa mai esaudita di ottenere elevate rendite mensili perpetue. Attualmente il principale indagato è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa degli interrogatori, mentre la moglie e il promotore finanziario sono stati denunciati in stato di libertà. Indagini a tutto campo invece in quelle di Grumello del Monte per un imprenditore però bresciano che è stato trovato ucciso nella sua abitazione. Le indagini sono a 360 gradi e nessuna pista verrebbe esclusa in queste ore dagli inquirenti che stanno indagando sulla morte di Anselmo Campa, l'imprenditore bresciano, 56enne, trovato senza vita martedì sera nella sua casa di Grumello sul Monte, nella Bergamasca, con una profonda ferita alla testa. Secondo quanto riporta il quotidiano online bergamoneuse.it, a 24 ore dalla sua morte Anselmo Campa avrebbe dovuto firmare la cessione dell'azienda di famiglia, la TTG Cologne, specializzata nei trattamenti termici e galvanici, della quale Campa era socio ma che da tempo aveva lasciato alla sorella e al cognato. Ma sempre secondo bergamoneuse.it che riporta il racconto di alcuni amici dell'uomo, all'interno della famiglia gli inquirenti potrebbero indagare anche su rapporti da quello con la ex compagna e il suo nuovo compagno. La relazione secondo gli amici di Anselmo non era finita bene al punto che proprio al circolo Arci che Campa frequentava il nuovo compagno della ex moglie sarebbe entrato nel bar minacciandolo di morte. Gli amici riferiscono anche di preoccupazione della vittima per il compagno di una delle due figlie e la loro relazione è definita burrascosa. Nessuna pista insomma in queste ore sarebbe esclusa. E dopo queste tre notizie indubbiamente brutte di cronaca una positiva invece c'è, vi porto sul nostro giornale online per vederla insieme ed è quello che riguarda la 14enne di Rodengo Sayano. Ne abbiamo parlato ieri sera e la scomparsa da 24 a 36 ore è stata ritrovata sana e salva ieri sera. Si era allontanata volontariamente ed è stata ritrovata in casa. La denuncia era stata presentata alla madre dopo quasi un giorno di assenza delle ragazze. In immediatamente erano scattate le ricerche anche con l'ausilio dei vigili del fuoco e della protezione civile che ieri sera hanno confermato che la ragazzina quindi è ritornata a casa. Davide Fontana, l'uomo che ha ucciso Carol Maltesi, lo ricorderete l'ha ucciso, è fatta a pezzi e rimane in carcere. Questa è la decisione del GIP. Davide Fontana, reo confesso assassino di Carol Maltesi i cui resti fatti a pezzi sono stati ritrovati a Borno, rimane in carcere. Lo ha deciso il GIP di Busto Arsizio dove si celebrerà il processo dopo il passaggio di tutti gli incartamenti da Brescia. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Prealpina, Fontana avrebbe confermato la confessione anche ai giudici di Busto. Avrebbe aggiunto ulteriori dettagli su quelle terribili ore, raccontando la sua versione dei fatti. Secondo la nuova confessione, la giovane madre avrebbe ricevuto una telefonata durante un gioco erotico fra i due. La telefonata era dell'ex fidanzato della donna, la cui volontà sembrava essere quella di trasferirsi in Veneto per permetterle di stare più vicina al figlio a letto di sei anni. Questa possibilità, la lontananza della donna che dice di amare, ha scatenato le ire di Fontana che avrebbe legato Carol a un palo da Labdance per poi colpirla violentemente con un martello. Pottiamo pagina, parliamo degli infortuni sul lavoro perché i dati alla mano rispetto a gennaio-febbraio del 2021, la crescita a Brescia ma anche in Lombardia è davvero esponenziale molto preoccupante. Una tragedia continua. I primi mesi del 2022 sono stati drammatici dal punto di vista delle morti bianche sul lavoro, con un aumento esponenziale rispetto allo stesso periodo del 2021. A certificarlo sono i dati forniti in queste ore dall'Inail che dipingono una situazione grave tanto a Brescia quanto nell'intera Lombardia. Ma al di là dei numeri basta dare uno sguardo alle cronache del primo bimestre di quest'anno per capire che un peggioramento c'è stato e purtroppo si tratta solo dei primi due mesi. I numeri parlano chiaro. Nei soli mesi di gennaio-febbraio 2022 sono 5 le persone che hanno perso la vita sul lavoro nel Bresciano. In realtà addirittura 4 di questi 5 decessi sono solo nel mese di febbraio. Nel febbraio 2021 si era verificato un solo incidente con esito mortale e se ci aggiungiamo anche gennaio il totale si fermava a 3. E se poi osserviamo i dati di tutta la regione la situazione non cambia. Nei primi due mesi del 2021 le morti bianche erano state 14, nel 2022 invece 24. Emblematico il solo dato di febbraio. Nel 2021 5 morti, nel 2022 ben 13. Come è normale l'aumento esponenziale è visibile anche nelle denunce di infortunio di cui magari non si legge che ogni giorno avvengono però anche sul nostro territorio. Nei primi due mesi del 2022 sono avvenuti 3.843 infortuni sul lavoro fra Brescia e provincia, una media di oltre 65 al giorno. Rispetto a un anno fa è quasi il doppio. Soltanto in febbraio le denunce di infortunio sono passate da 992 a 1.506. Similmente sono cresciuti a dismisura gli incidenti sul lavoro in tutta la Lombardia. Nel primo bimestre 2021 erano stati in totale 15.478, in quello del 2022 addirittura 24.657. Adesso apriamo la pagina dedicata al Covid-19 e parlando del Paxlovid, il farmaco antivirale contro il Covid che da oggi è possibile recuperare anche nelle farmacie della nostra città su ordinazione. Vi porto sul nostro giornale online, i medici di famiglia lo possono prescrivere ormai da un paio di giorni e il farmaco per il trattamento del Covid su ricetta medica del medico di base senza costa carico del cittadino e senza gravi per il sistema sanitario nazionale. Prodotto dalla Pfizer, il Paxlovid è una pillola che inibisce la replicazione del virus ed è indicata per il trattamento di 5 giorni per tutti i pazienti adulti che contraggono il Covid in forma leggera, quindi che non hanno bisogno di ossigenoterapia ma che rischiano di peggiorare a causa di preesistenti condizioni di salute come patologie oncologiche, malattie cardiovascolari, diabete, broncopneumopatia cronica e obesità grave. Per questo motivo la prescrizione del medico è ovviamente obbligatoria, a lui va stabilito, sarà lui a stabilire la necessità della prescrizione in farmacia dietro una breve prenotazione. Voltiamo pagina perché, anzi rimaniamo a parlare di Covid-19, perché sapete che c'è tutta la dietriba delle mascherine, mascherine sì, no, probabilmente vengono tolte, verranno tolte, ovvero cesserà l'obbligo in alcuni contesti mentre in altri rimarrà. Cerchiamo di fare un po' una sintesi di quello che succederà dal primo maggio. Più e più volte in questi ultimi giorni abbiamo riportato le parole delle istituzioni nazionali che vedrebbero decadere dal primo maggio l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso. Questo allentamento però non dovrebbe essere l'unico in arrivo con il cambio del mese. Stando infatti al decreto riaperture 2022 firmato dal Premier Draghi a marzo, oltre alle mascherine potremmo di fatto dire addio anche al Green Pass a distanza di circa un anno dalla sua entrata in vigore. Dopo la rimodulazione di aprile, da maggio non dovrebbe più servire esibire il QR code in quei luoghi dove è ancora previsto, come ad esempio ristoranti e bar al chiuso, cinema, teatri e via dicendo. Rimane invece molto probabile il mantenimento della certificazione verde rafforzata per i lavoratori sanitari e per il personale delle RSA. Il Green Pass non servirà più nemmeno al lavoro, anche per gli over 50, per cui però la vaccinazione rimane obbligatoria fino a metà giugno. Senza immunizzazione si riceverà la canonica multa una tantum da 100 euro, ma si potrà tornare al lavoro semplicemente con il Green Pass da tampone negativo. Vediamo allora gli ultimi dati che sono disponibili per quanto riguarda la situazione Covid nel nostro territorio. 1.067 i casi Covid nel Bresciano, 9.678 in Lombardia. Il consueto schema, la consueto grafica della regione, un paziente in più in terapia intensiva, 39, 27 in più in area medica, 1.196. Tamponi 69.409, 9.678, dicevamo i nuovi positivi. Il tasso di contagiosità che si aggira al 14, 13,9%. E ancora alto, purtroppo, il numero dei decessi in Lombardia, 30 persone che sono morte a causa del Covid-19. Celebrazioni del 25 aprile nella nostra città, molte sono le iniziative, due i momenti in particolare. Il 25 aprile, in occasione del 77esimo anniversario della liberazione, Brescia, per ribadire il proprio impegno nell'affermazione degli ideali di libertà, democrazia, pace e giustizia sociale e ricordare il sacrificio dei cittadini caduti, ha organizzato una giornata di commemorazioni che inizierà, come da tradizione, alle 10.30 al cimitero vantiniano, con la deposizione delle corone al Sacrario dei Partigiani e la Santa Messa. Successivamente, nel pomeriggio, la celebrazione si sposterà in Piazza della Loggia, dove si riuniranno le associazioni partigiane, d'arma e combattentistiche. Alle 15.45 ci sarà il concerto della banda cittadina, mentre alle 17 verranno deposte le corone alle lapidi di Palazzo Loggia, ai caduti di Piazza della Loggia e ai caduti della città di Brescia, per la libertà, 1943-1945, il Largo Formentone. Per concludere la giornata, il sindaco farà un intervento insieme alle associazioni partigiane e alla senatrice Rosi Bindi, che chiuderà la giornata. Spostiamoci a Bagnolomella, perché il paese sta organizzando una nuova fiera. A Bagnolomella si è messa in moto la macchina organizzativa per dar vita alla prima edizione della fiera di Santa Elisabetta. La manifestazione si svolgerà domenica 29 maggio dalle 9.30 alle 21 e proporrà stand di artigianato e di hobbysti, un'esposizione di macchine e moto d'epoca, attrazioni per bambini e giostre, food truck e street food, ma ci sarà anche spazio per gli eventi culturali ed esposizioni artistiche. Proprio in questi giorni si sta delineando sempre più quella che sarà la forma definitiva di questa fiera. C'è però ancora tempo per prendere parte all'iniziativa e a tal proposito è stato messo a disposizione un numero WhatsApp, il 338 462 1342, attraverso cui è possibile avere tutte le informazioni del caso e magari poi iscriversi alla prima edizione della fiera. Al momento, in particolare, sono ancora disponibili dei posti per i food truck e per gli hobbysti. L'amministrazione però promette che da qui alle prossime settimane ci saranno altre sorprese per rendere ancora più speciale questa prima volta. Siamo allo sport e partiamo dalla pallanuoto con il pareggio della Enne Brescia con Barcelonete, il commento di Coach Bavo. Pareggio, partita splendida e soprattutto primi nel girone, questo girone chi l'avrebbe venuto a inizio anno? Ma probabilmente in pochi, forse nessuno perché era un girone sulla carta proibitivo, finire primi, ci siamo qualificati a tre turni dalla fine, siamo primi a un turno della fine del girone, credo che oggi abbiamo fatto un'ottima partita, ci sono stati un po' di errori, alcuni giocatori non sono entrati completamente nel match, abbiamo bisogno veramente per esprimere il massimo che tutti e 13 siano dentro la partita, però direi che lo spirito era buono, l'atteggiamento era buono, abbiamo fatto anche delle cose molto buone. era importante, era importante, potevamo vincerla, però insomma è importante essere arrivati prima. Ci tenevamo tanto a fare bene, soprattutto per raggiungere questo primo obiettivo e siamo veramente contenti, peccato potevamo vincerla, alla fine un po' c'è sfuggita, però questo punto è stato fondamentale, siamo veramente felici di essere primi in un girone veramente molto difficile, ora possiamo prepararci per questa Finals. Ecco, una squadra che la vostra è sempre stata in crescita, quel periodo a gennaio-febbraio, poi una crescita che siete testimoniali anche oggi perché l'avversario era veramente tosto. Sì, sì, ma noi stiamo crescendo, partita dopo partita ci stiamo allenando veramente bene, piano piano troviamo i nostri meccanismi, secondo me abbiamo ancora tanti margini di miglioramento, quindi ancora abbiamo un paio di mesi, in questi due mesi sicuramente ci faremo tanti allenamenti, cresceremo tanto e ci faremo trovare pronte. Lunedì sarà una giornata davvero molto speciale per tutti i tifosi bresciani perché Andrea Caracciolo tornerà al Rigamonti per raccogliere proprio l'affetto e l'abbraccio virtuale di tutti i tifosi che andranno appunto a seguire la partita del Brescio. Lunedì sarà una giornata speciale per il Brescia Calcio e i propri tifosi, lo sarà sì perché si gioca una partita fondamentale in ottica promozione diretta contro la SPAL, ma non soltanto. Prima del fischio d'inizio infatti il pubblico del Rigamonti potrà riabbracciare a distanza di quattro anni dall'ultima volta il suo bomber Andrea Caracciolo. Nei giorni scorsi infatti l'Airone ha annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo due stagioni passate a Lumezzane. Non poteva mancare l'omaggio delle rondinelle che è stato organizzato proprio per il 25 aprile. Alle 18 Caracciolo calcherà per l'ultima volta il prato del suo stadio, casa sua, per ricevere i giusti onori dal pubblico che per anni lo ha incitato dagli spalti. Un bel modo per ringraziarsi a vicenda, un bel modo per iniziare col piglio giusto il match forse decisivo di questa stagione. E proprio a tal proposito, fra Caracciolo e partita fondamentale, la società chiama i tifosi a raccolta per riempire il Rigamonti dando la spinta a una squadra che continua a credere nel salto diretto e, come detto anche da Bisoli dopo il pareggio di Monza, ha bisogno della sua gente. Fra l'altro la società ha deciso di fare uno speciale omaggio a 23 piccoli tifosi del Brescia, una maglia di Caracciolo firmata e consegnata dall'Airone in persona. I fortunati vincitori saranno scelti fra i figli degli abbonati di qualunque settore del Rigamonti. I primi 23 che si presenteranno allo store di Via Solferino sabato pomeriggio a partire dalle 14, accompagnati dal genitore e possessore dell'abbonamento, si garantiranno un ricordo indelebile. La Germania invece ha presentato il suo ultimo acquisto, John Brown, vediamo. Si è sentito fin da subito a casa, è stato accolto a braccia aperte sia dalla squadra, dai compagni, sia dallo staff tecnico, quindi la sensazione è quella di non aver mai in realtà lasciato l'Italia e lasciato casa sua, quindi è stata una transizione e un passaggio molto semplice per lui. Personalmente il suo obiettivo è vincere il campionato e con questa squadra è assolutamente un obiettivo fattibile, però non voglio andare troppo in là con la mente, voglio rimanere concentrato a quello che sarà il lavoro quotidiano da qua alla fine della stagione e concentrarmi sul lavoro in palestra di ogni giorno. Ci fermiamo qui con questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo che tutte le notizie continuano ad aggiornarsi sul nostro giornale online, livebrecia.tv, sul quale trovate anche la diretta del nostro canale 181 delle digitali terrestre 181 nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondeo. Le notizie vi raggiungono anche sul vostro telefono cellulare con tutti gli aggiornamenti se vi iscrivete ai nostri canali Telegram, Live Brescia News oppure Live Brescia Sport. Grazie per essere stati con noi, ci rivediamo se volete stasera alle 19 con la nostra edizione della sera. Buon pomeriggio a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.